Siamo qui con il Chiedi appena finita questo match, classificati i quinti in questo Tortoreto Gap. Parlateci un po' di questa partita, va? Eh, vabbè, combattuta fino alla fine, un po' di albitrage un po' scorretto perché Mr. Play va da 12 anni. Poi, niente, abbiamo vinto, siamo felici, siamo felici e... Abbiamo giocato bene, quindi ci può stare, poi, possiamo migliorare nel gioco, però abbiamo giocato bene, abbiamo vinto, ci lo siamo meritati, ci lo siamo meritati questo quinto posto. Quindi, comunque, sarei soddisfatti di questo quinto posto? Sì, sì, potevamo fare meglio, però va bene anche tutto. Abbiamo perso subito contro quella che andava in finale, quindi, secondo me, potevamo arrivare in finale. Poi non dico vincere o perdere, ma ci potevamo benissimo arrivare. Va bene, allora vi ringrazio e complimenti. Ciao.